L'amministrazione provinciale ed imperia per dare un maggiore impulso all'attività con l'avvicinarsi della conclusione del mandato ha ritenuto di modificare alcune deleghe tra gli assessori, in particolare quella al personale attualmente trattenuta dal presidente Luigi Sappa viene attribuita insieme alla formazione all'assessore Antonio Parolini, il quale avviate a conclusione con successo buona parte delle liquidazioni delle società partecipate concentrerà la sua azione sul riassetto interno dell'ente correlato alla disponibilità delle risorse e delle funzioni riassunte dalla regione e dallo Stato. L'assessore Cristina Barabino concentrerà invece il suo intervento sulla definizione delle politiche del lavoro e in particolare dei centri per l'impiego. Le partecipazioni societarie vengono quindi trattenute dal presidente Luigi Sappa. Tra queste ormai la questione più pressante e preoccupante è quella della partecipazione della provincia nella riviera Trasporti all'84,44% RT dove ci sono problemi che riguardano più assessorati dal trasporto al legale al bilancio stesso e necessitano pertanto di un intervento coordinato. Cambia quindi in parte la struttura della giunta provinciale imperiese dopo che già lo scorso 1 agosto è stata approvata la nuova macro struttura della provincia in attesa di una definizione da parte del Governo centrale del riordino delle funzioni provinciali.